Buongiorno, buonasera, non so in quale momento della giornata ascoltarete questo mio breve contributo. Vi ringrazio di cuore di aver pensato di condividere con me questa riflessione così importante, una riflessione urgente riguardo un'attesa dell'umanità. Cerca di ricevere l'attesa che cerca di costruire e che porti a un esito da millenni, cioè il tema della pace. Mi avete chiesto di riflettere su cosa sia per me la pace. Io faccio riferimento a uno scritto talmudico di uno dei più belli del Talmud ebraico che si intitola Pirkei Avot, Massime dei Padri. In Pirkei Avot viene detto Il mondo si sostiene, riposa, sta in piedi su tre pilastri, su tre cose. Sulla giustizia, sulla verità e sulla pace. Se fai giustizia, fai verità, se fai verità, fai pace. La pace per me è quella che provana dall'accoglienza della piena dignità dell'altro. Cioè è la pratica della giustizia sociale, perché nel testo talmudico e nel testo biblico la giustizia è la giustizia sociale, cioè la giustizia che porta alla pari dignità e all'uguaglianza di tutti gli uomini. Allora il motore per arrivare alla pace è la giustizia. Non c'è una pace senza giustizia. E naturalmente la giustizia sociale è quella che permette a uno di accedere alla sua verità, quella di essere umano universale. E cosa vuol dire essere umano universale? Che lo statuto della dignità, che porta ai diritti e all'uguaglianza, è presente in ogni essere umano al momento della sua nascita. O se devo dirlo in modo più caro agli amici cattolici, al momento stesso del concepimento. Dunque, se si riconosce la piena dignità dell'essere umano, il suo statuto di sacralità inviolabile a ogni essere umano, persino al più efferato dei carmetici, il quale certo deve essere punito per le sue efferatezze, deve essere condannato dalla giustizia degli uomini, ma senza che venga privato di quello statuto di dignità, anche persino egli ha uno statuto di dignità. Allora, se noi accogliamo la dignità, noi rifiutiamo il privilegio, combattiamo l'oggetto del privilegio, ed è questo che porta alla pace. Le guerre nascono e vengono scatenate perché qualcuno pretende di avere su di sé privilegi, privilegi di potere, di danare, economico, non importa. È la stessa cosa. Le guerre di oggi, che vengono immobilmente chiamate interventi umano umanitari, sono in realtà guerre per l'egemonia economica, sono vecchissime guerre. È ancora la vecchia logica delle petroniere, ma sono molto ben camuffate da un sistema mediano che ancora volta in mano il potere produce il privilegio e la riquezza per il potere. Dunque, per me la pace è la pratica della giustizia sociale che porta al riconoscimento della piena dignità di ogni essere umano, alla punizione dei privilegi, dello statuto del privilegio. Nessuno può pretendere per sé ciò che nega un altro essere umano. Allora, questa pratica porta a quella verità che è l'universalità dell'essere umano. Naturalmente io non sono un credente nel senso comune in cui si dà questa propria dichiarata, piuttosto agnostico, però quell'intuizione dei monoteismi della della luce divina che c'è in ogni uomo, dell'impronta complice della tua divina che c'è in ogni uomo, significa proprio questo che ogni essere umano è dotato di uno statuto specialissimo che proviene da altro che non dalle forme del potere, proviene da una da una come dire da una profondità e da una dimensione che trascende il potere di legge o le logiche del tanaro o il mercantilismo. L'impronta che noi abbiamo che io chiamo dignità, naturalmente anche voi la chiamate dignità, che per me nasce dalla consapevolezza dell'essere umano che individua a se stesso per i religiosi invece è il dono divino è il segno divino nel mondo. Comunque sì anche per si vede laicamente e per si vede religiosamente. La pace si ottiene quando si riconosce la dignità cioè si pratica una vera giudizia di confronto del nostro simile chiunque esso sia a prescindere da ogni differenza accessoria di cultura, di fede, di opinione politica e di altro. Quindi per me la pace è questo è qualcosa che nasce dalla piena accoglienza della dignità dell'altro nella sua alterità nel riconoscimento dell'alterità. Quindi l'alterità diventa valore non disvalore come nella nostra società perché chi sa perché si pensa che l'omologazione e l'uniformità siano valori e l'alterità disvalore. No, l'alterità è valore esattamente quanto l'uniformità. Allora ecco quali sono i processi che portano alla pace e per me la pace è prima di tutto accoglimento della dignità cioè pratica della giustizia sociale nel modo più radicale senza attenuazioni strumentali alle esigenze dei mercati come si dice oggi non è tollerabile che si tolga il nuovo dignità perché i mercati prendono allora ecco la pace si ottiene in questo modo la pace è la casa della vita come la guerra è la casa della morte e se noi vogliamo abitare nella casa della vita noi dobbiamo capire che la casa della vita si abita con la dignità l'uguaglianza e la giustizia e allora c'è la pace allora questo per me è vera l'autentica pace la pace non è pacificazione e non è neanche l'imposizione del forte sul debole non è l'imposizione colonialista la pace è altra cosa e la pace richiede di un impegno di un turno per la sua costituzione no la pace non è non si la costituzione della pace non può essere delegata ai potenti che quasi sempre oramai sono strumentalizzati al potere del danaro sono sottomessi al potere del danaro nella stragrande parte dei casi e quindi posso dire questo segni di pace i segni di pace vengono da quelli che troverete familiari e chiamare uomini di buona volontà estendiamo questo concetto vengono dalla società civile vengono dalle associazioni di volontariato che siano cattoliche che siano laiche o che siano di altro segno cristiane o ebraiche o musulmati vengono dalla società civile vengono dal profondo degli uomini che non hanno interessi a cui sacrificare immolare i valori perché per poter lanciare segnali di pace bisogna lanciare il cuore al di là degli ostacoli bisogna bisogna persi l'anima bisogna impegnare le fibre del proprio corpo della propria esistenza così autenticamente si lancia un segnale di pace e questa testimonianza si invera nell'impegno che è il turno di queste associazioni di questi uomini della società civile di milioni di giovani nel mondo e non sono giovani di uomini straordinari che non scendono all'illusibile della realpolitik che cerca sempre di giustificare l'infamia della guerra tirando fuori scusanti ogni volta sempre più miserabili e pietosi la via alla pace è la pace non si arriva alla pace attraverso la guerra qual è un'altra cosa è la pacificazione come diceva Tacito hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace non è con le bombe che si costruisce la pace ora